Ragazze, allora io non sono regolare al 100%, sono le 20.54 di venerdì 1 marzo 2024, io reddice dalla mia influenza fulminante che durò da stamattina, mi sono arrivati tantissimi articoli oggi e quindi ho detto facciamo uno spoiler alle ragazze perché sono tante cose belle e io voglio troppo farvi vedere tutto ma mi servono gli omini, mi serve tempo, mi serve disposizione, ho detto vi faccio un piccolo video sorpresa, spoiler night lo chiamiamo, lo spoiler night, tanti fular anche belli e anche taglie morbide, visto che mi dite che non le ho mai, non ditemi mai niente di ingiusto perché sennò io continuo tipo per 10 anni a tirar fuori la cosa, i fular sono veramente belli, uno più bello dell'altro, questo colorato po' stile Missoni, guardate che meraviglia, viene 2,50€ ed è un bel fular colorato, questo super colorato anche lui, che spettacolo ragazze, così, guardate i colori e la bellezza di questo mega fular, stupendo, viene 4,50€, è di una bellezza anche da esporre così, tipo fare un quadretto, è strabello scusate non sono in pieno alle mie facoltà, ho rimesso la giacca perché oggi ho tenuto il riscaldamento a manetta tutto il giorno perché avevo strafreddo ma adesso l'ho spento, questa in poliestere, anche questi i colori del mare, bellissimo, trasparentino, molto leggero, viene 2,50€, sono tutti belli per la primavera, questo è a Pua, lungo e stretto, viene 1€, tutto così, bello anche questo, questo è un video sorpresa che non ho neanche anticipato alle ragazze nel gruppo, questo è Lilla con tutti questi fiorellini, che meraviglia, viene 2€, ce n'è per tutti i gusti, guardate anche questo che meraviglia, mega fular, oh mio Dio, col fondo del mare, questo è... mamma mia che bello, questo è un dipinto, non è un fular, guardate. Come facevo a non farvi un video spoiler con queste meraviglie qua, della natura, bellissimo questo fondale, ed è strano perché sui toni del verde, con questi pesci meravigliosi, questa sciarpona qua viene 7€, leggerissima, è uno spettacolo, mai vista una roba del genere, e mi stupisce il fondo verde, perché di solito lo fanno blu. Magliettina XL XXL, tipo fatta maglioncino, siamo sul 48, anche morbido, fatta così da merceria, con questa punta di... sempre con le solite perline applicazioni, mi stanno arrivando tantissime così, ma sono molto belle da merceria, e il materiale c'è, c'è 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 c'è, comunque sì, 48,50 come taglia, molto bella, 90 viscosa, quindi ottimo anche il materiale, viene 6,90€. Se non sapete come abbinarla, classico jeans, bella, ma anche con dei pantaloni bianchi, blu, neri, jeans chiaro, jeans scuro, con tutto. Altra taglia morbida, questa volta è XXL XXXL, anche qua siamo 50, anche di più, questa bellissima blusa, sempre con questa maculatura sui toni del blu, tutta lavorata qua davanti, guardate che meraviglia, è un capolavoro, anche questa è molto elegante, ma potete stramatizzarla con cose un po' casual, tipo con il jeans, anche con un bel jeans bianco, o il pantalone nero, ce la mettete sopra, è bellissima anche per una ricorrenza, secondo me, perché è veramente bella, e questa ci hanno tagliato l'etichetta, quindi non si sa. Viene 6,90€, guardate anche solo la parte qua, che meraviglia e che prezzi, taglia morbida. Pantalone della tuta maculato, più presi a caso, taglia unica, consiglio fino a 44, fatto così, una bella maculatura, bello cortino, quindi lascia la caviglia in vista, consiglio appunto 42-44, l'accettino da fare qua, adoro l'immaculato, ovviamente, viene 3,90€, un bel pantalone della tuta, molto easy. Cioè, vorrei farvi vedere tutto il negozio, praticamente. Taglia morbida, ancora, questo è uno spoiler taglie morbide, una gonna meravigliosa di Carla Ferroni, con dei fiori stupendi, qua siamo assolutamente sulla taglia 50, bella morbida, guardate che meraviglia, anche questa sembra un capolavoro, gondellina così, con una bella camicetta, se ce l'avete sui toni chiari, sul fucsia, arancio, ocra, una bella blusa ocra. È di Carla Ferroni, arriva appena sotto il ginocchio, il fondo è così, e viene 5€, ragazze. Carla Ferroni, eh, che è un brand di lusso comunque. Poi mi prendo le cose lì dal tavolo, ho già capito io come devo fare, perché non ho più uomini per quello, devo aspettare domani che mi prenotate le cose per liberarli. Mi chiedete spesso delle salopette in jeans, quando ho visto questo ho detto, wow, la amo. È di pinky in denim, qua corrisponde un 42-44 secondo me, comunque all'occorrenza ve la misuro perché non c'è più la taglia. È una salopette jeans, qua ha queste applicazioni che sono occhiali da sole, forbicina e bocca, e sotto qua delle scrittine rosse, see you later, ci vediamo presto. Molto molto carina, proprio classica salopette, con il suo pantalone strettino sul fondo, un pochino morbido sulla gamba, sopra più che altro, però viene già abbastanza sigaretta. Viene 6,90€, è una bellissima salopette. Ok, avete visto come le chiedete spesso, insomma, ho pensato di farvela vedere. Bellissimo cardigan kimono di Zara taglia M, blu, blunotte, con questi ricami così, azzurri, molto bello. C'ha pure la cinturina e la taschina, taglia M di Zara, in ottime condizioni. Viene 6€, fatto bene, c'è anche il polsino così, tipo rigido, molto molto carino. Anche i giliemi li chiedete spesso in denim, c'è questo qua lunghetto taglia S di OVS, con tutti i patch, molto carini, per outfit street style, è una S quindi 42. I patch sono fatti così. E viene 4,50€. Carino anche da mettere su un bel pantalone cargo, e questo sopra quando avete magari qualcosa, una carottina o qualcosa, non volete essere troppo scollate. La mia voce. Questa invece è un cardigan da bambino, da bambina, XL di Benetton, che corrisponde a un XSS da donna. È davvero bellissimo, guardatelo. Tipo qua è azzurro bluet, con queste righine bianche e rosse, un rosso corallo quasi salmonato, e queste taschine, in ottime condizioni, viene 4,50€ per XSS da bene. Altra cosa che mi chiedete spesso sono le t-shirt crop, arrivano e come arrivano vanno. E adesso ne è arrivata una che vi faccio vedere, perché è stupenda, molto street style. Rossa di talli, taglia S, ovviamente è super over, quindi va benissimo anche una M, che è M morbida, perché vedete quanto è larga anche su di me, perché vanno portate così, e questa è spettacolare, con un bel pantalone della tuta bianco, con il jeans, con lo shorts, che meraviglia, bellissima. Io adoro poi queste cose qua, con le scritte tutte, perché fanno, vanno subito, guardate, che aria fantastica, il rosso poi è un colore meraviglioso. Viene 2,90€, è carinissima. Gondelina Pua taglia 46 vintage di La Divina, La Divina, no, Divina Divina, Divina Divina, Divina Divina, taglia 46, leggerissima, blu, con i Pua bianchi, taglia 46, iper leggera davvero, sembra tipo in seta, non so dirvi adesso il materiale, ce l'abbiamo. Eh, 100% seta, sembra seta, non giuro che non l'ho guardato. 100% seta taglia 46, di una leggezza farfallesca, incredibile, prezzo taglia 46, cioè, questa qua è come non aver su niente, praticamente, però vi copre, e ve la metto a 4,90€, 100% seta, e con questo posso anche congedarmi. Quanto manca? Manca poco, vediamo se c'è qualcosa qua in giro da spoilerarvi, perché sono arrivate troppe cose, io qua, insomma, per farvi vedere tutto, devo impazzire, non ho spazio, tempo, non so. Giacchettino di jeans taglia L, anni 2000, questo. 44, vabbè, ve lo butto qua, ho fatto un po' tipo effetto camicetta. Bellino, eh? Molto carino, se vi piacciono gli anni 2000, è il classico giubettino di jeans che si usava tantissimo. Viene 2,50€, è stra carino, tutto qua per terra, non dovrei, ma ci sono sotto i foulard. Anche questo pantalone è molto carino, è color anguria, sì, color anguria. Loveli è il brand, e qua siamo sul 44, anche morbido, anche 6. Pantalone della tuta iperleggero, cortino, diciamo che arriva, ma vabbè, tipo a me arriva giusto in realtà. Leggerissimo, viene 3,50€ con le taschine, e dietro c'ha la taschina elegante, cioè sembra della tuta, ma è stra leggero, è la composizione, non so se c'è. E adesso è quasi finito il tempo, no, l'han tagliata, vabbè, però vi assicuro che è iperleggero, cioè vedete, è stra stra leggero, molto carino, soprattutto il colore, per abbinare le t-shirt, insomma. E boh, che cos'altro vi posso far vedere? Qua, aiuto, sono tanti pantaloni, devo guardarli meglio questi. Allora vi faccio vedere questi qua di Zara, Principia di Galles, che so che piace tantissimo, taglielle, sono tornati in vendita, a sigaretta, consiglio 46, fatto così, bella sigarettina, con questo bel Principia di Galles, ancora in ottime condizioni, righettina nera.